Dopo la vittoriosa trasferta sul campo della Mariglianese, la San Gataldese domenica pomeriggio sarà di scena al Valentino Mazzola contro i Locri, avversario molto ostico che attualmente ospita la seconda posizione in classifica dietro l'inarrivabile Catania. Sarà una partita importantissima e si preannuncia una buona cornice di pubblico per l'ultima partita del 2022 in Casa Verde a Maranto, dove ci sarà il saluto per il capitano Salvatore Di Marco dopo la rescissione del contratto. Ecco il quadro completo della sedicesima giornata del Gironei del campionato di Serie D. San Luca Castrovillari, Ragusa Ricata, Trapani Vibonese, Acireale Paternò, Canicattì Cittanovese, La Mezzia Terme Sant'Agata, Reala Versa Mariglianese, San Gataldese Locri, Santa Maria Cilento Catania. Nel campionato di eccellenza la Nissa scenderà in campo sabato pomeriggio nell'ostica trasferta di Sciacca per l'ultima del Gironei di andata. Galvanizzati dalla vittoria di domenica in casa sul Mazzara, i biancoscudati cercano una vittoria importante sul campo di una squadra che si sta rafforzando sul mercato e tenta di essere la mina vagante del Gironei di ritorno. Ecco il quadro completo della quindicesima giornata del campionato di eccellenza Gironei A. Cus Palermo Mazzarese, Unitas Sciacca Nissa, Resuttana San Lorenzo Acragas, Don Carlo Misilmeri Parmonval, Enna Profavara, Leon Fortese Oratorio San Ciro, Nuova Città di Gela Castellammare, Mazzara Casteldaccia.